Ehi raga, ecco di nuovo, adesso volevo far vedere un altro gioco, Buonce Master, veramente molto bello, e direi subito di andarci a fare qualche partita, spero di ho finito con i video. Ehi raga, e se guarda come ne ho lanciati in un altro, aiuto aiuto aiuto, vabbè, vabbè. Ok, no, 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 vabbè, in te mano per adesso. ok riproviamo aiuto aiuto ok vabbè l'ho cavolato io vabbè niente male niente male ricordate che qua c'è il belletto e scrivere la campanellina st'è pubblicità di cavolo anche a me la scrive ma mai adesso si ragiona il belletto è sbogliato povero il belletto ah 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 perchè però niente male c'è stato un volo dai niente male ma non c'è stata un volo ho fatto un altro dello schifo è di nuovo adesso si ragiona aiuta 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 sta a fare una cosa assurda blare con questo gioco come questo gioco vi potrei portare mi integrale si chiama no stay out master questo gioco è bello però dai dov'è non voglio giocare dove sei it's maledetta eccoci ecco, 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 ecco wow, mannaggia non capisco come si fa arrivare alla ragazza di scoprire il guida è impossibile la gente che ci sia riuscita ma è impossibile wow e poi c'è un minuto in pubblicità cioè maratona ma che eh, dammela eh, non voglio giocare giocare ok, raga vediamo che tiro ecco quello bello ok, ok ok, ok ecco, ecco, ecco mi piace mi piace ok questo, 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 questo ok, ok così si due, tre pure allendetelo di a seguire crazy ok ok dai no mannaggia però sono andato benissimo ah, da pubblicità di schifo a 26 secondi vabbè sento urlare che voglio, voglio schiacciare sta itz ma che sei tu frega e mori pure che se ne frega oh mamma mia ma perché 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 c'è tu dico loro oro cioè dove stai c'è 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 sti giochi di pubblicità che non hanno senso ma andiamo a giocare con questa con questo gioco che è più bello anzi più bello ma che era cioè raga poi io vi chiedo di non insultarmi per alcune persone Cioè notando che io sono un bambino, spero che ognuno vivono i miei sfilti, perché io ci tengo ad avere un canale, invece sono stata affidata dai miei genitori. Aspetta però, però, mannaccia, anche qua però è stato bello. No adesso ok, questa roba no, non è nemmeno sta, sto schifo. Ma vado a gioventù di guardare, va bene. Mi sento un sacco di monete, buce, 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 buce. Magari per il livello che arrivi, sì dai. Yes! I pingüini piccoli che mi fanno stare come un pazzo. Ah! 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 Vabbè ho fatto una cavolata assurda, c'è, comunque sono andato oltre. Ho detto che faccio una schifa. Sì, così ti faccio anche piantare, le scimpanze. E poi dici, ma che è stato? No schifo! No schifo! No, 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 no. E poi No terrculo, pure. No! No! raga spero che questo altro video mi sia piaciuto porterò tre video se ci riesco ogni giorno non proprio ogni giorno perché ogni giorno dopo la scuola se ho tempo quindi pubblicità e adesso raga vi saluto qua vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi e di attivare la campanellina se volete ciao raga